Il comune di Piacenza ha pubblicato il bando di gara per la concessione in uso e la gestione del palazzetto dello sport di via Tirotti alle Mose. La concessione avrà durata di cinque anni dal primo luglio 2017 fino al 30 giugno 2022 e il canone annuo a carico del gestore sarà di 1000 euro a cui però si sommeranno oltre 200 mila euro di costi di gestione. Le offerte andranno presentate entro il 21 giugno. Chi vincerà l'appalto dovrà farsi carico di tutte le utenze nonché gli oneri relativi alla tarifa di smaltimento dei rifiuti ma anche della manutenzione tanto quella ordinaria quanto quella straordinaria. Naturalmente l'utilizzo del palazzetto la cui capienza è fissata in 3735 posti più 20 riservati ai disabili potrà essere concesso dal gestore a terzi così come avvenuto in questi anni tra le squadre di pallavolo e di pallacanestro. Proprio un'alleanza tra questi due sport si profila all'orizzonte. Dobbiamo ancora leggere il bando ha spiegato il presidente della LPR Volley Guido Molinaroli ma posso già dire che se parteciperemo non saremo da soli. Con la Sigeco Basket si è creato un ottimo rapporto abbiamo condiviso il palabanca in questi mesi e nel caso andremo avanti assieme anche in futuro. Magari si aggiungerà qualcun altro? Lo spazio c'è e si ridurrebbero le spese che comunque sono davvero molto elevate.